L'è scritto e viene aperto l'America Latina, ricordando speculazioni, dittature, il periodo dopo Polivar, in cui l'America è stata iniziata a colonizzare dai nordamericani. Adesso che in America stanno arrivando delle figure nuove, Morales, Lula, Chavez, queste figure fanno sperare in democrazia e vicina alla gente o questa è solo un'apparenza? Secondo la grande media, la grande fabbrica dell'opinione pubblica mondiale è teatro, ma secondo la realtà è molto più che un teatro. Recentemente c'era questo plebiscito revocatorio, referendum revocatorio di Evo Morales nella Bolivia e poco prima, qualche tempo prima, un altro referendum revocatorio di Uo Chavez in Venezuela e le due hanno acquistato una maggioranza importante della popolazione, che è la prova che non sono impopolari, come si dice che sono. In Bolivia quasi sette di ogni dieci boliviani confermano Evo Morales nel potere. Questo significa che la media, la grande media mente, perché sono popolari e sono democratici. Io ti domando, tu mi rispondi, qual è il presidente europeo che nelle secoli, degli secoli, degli secoli, ha fatto un referendum revocatorio per dire al popolo, se le vuole io continuo nel potere, ma se non vuole io me ne vado. Qual è il presidente europeo che lo ha fatto? Credo non esista neanche uno. Perché hanno questo vizio di prendere, di tomare esame nel resto del mondo per decidere chi è democratico e chi non è democratico. Visto di sopra tutti siamo enanos, nani, si dice nanos, così. E visto di sotto, tutto sono gigante. Bisogna recuperare l'orizzontalità della visione umana. Questo è il vero esercizio della solidarietà, è l'unica possibilità di vedere all'altro. Non l'immagine che dell'altro si c'è, ma l'altro vero. Però in quest'era della comunicazione, dove comunque il media ha un potere potentissimo rispetto a una volta, insomma, ha iniziato a parlare di media e con i giornali Orson West con il suo Citizen Kane, il quarto potere. Ma ora in cui magnati come Berlusconi e Mardoc riescono a manipolare facilmente la gente, lei pensa che ci sia una speranza per il futuro, anche per la politica futura, di riuscire ad appiattire il livello tra la gente e creare più equità nella società? Io non lo so, ma c'è un abito del paradosso continuo nella storia umana e questa è una fonte di speranza, perché per esempio Internet, che è nata come un strumento di guerra e di morte, creato per il Pentagono, per la planificazione mondiale delle operazioni militari, è diventata un'altra cosa diversa, che apre spazi veri per l'espressione che ieri o avanti ieri erano condannate al silenzio. Passiamo a un argomento diverso che però si lega comunque col concetto di popolo, di gente, di massa. Il calcio, in Sud America il calcio è sempre stato molto importante, il football ha creato dei miti inossidabili come Pelé, Garrincia, Diego Armando Maradona, ha dato la possibilità di sognare a un sacco di ragazzi, di poterli farli uscire per un attimo della miseria, facendo giocare per strada e tutto questo. Quanto ha dato il calcio a lei come uomo e come scrittore? Io come tutti gli uruguayani sono nato gritando gol, tutti gli uruguayani, il bebè, il maracanasto Uruguay, tutti, nelle cliniche di maternità dove le bebè sono nascite, è impossibile di soffrire questo rumore continuo di gol, 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 perché il grido, la prima parola di tutto il bebè uruguayano. E anche la mia, io volevo essere giocatore del calcio, ovviamente, ma era un disastro totale, una vergogna della mia patria. In che ruolo giocava? Sì, sì, numero otto, era un numero otto, ma era un disegno del gioco interamente diverso dal disegno attuale, no? E anche il vocabulario, il nome di ogni giocatore era diverso. Ma come io non avevo altro rimedio che assumire la mia impotenza, ho diventato scrittore, tentando fare con la mano quello che non poteva fare con le gambe, ma quello che io volevo fare con le gambe, no? Con la mano. Io sono resignato a questo triste destino di essere un scrittore, di essere Pelledona, che era il migliore giocatore della storia. La sintesi di Pellè e Maradona, Pelledona. Io volevo essere Pelledona. Poteva magari anche accontentarsi di essere un condottiero, l'Abdulio Varela, in campo, sebbene non fosse un grandissimo talento, però aveva un gran cuore, una grande anima che è riuscito, assieme alla sua squadra, a compiere l'epocale impresa del Maracanà, della grande vittoria nello stadio Maracanà contro quel grandissimo Brasile e rese l'Uruguay famoso in tutto il mondo per quel titolo inesperato, importantissimo. Per me il Maracanà è ricordabile come una giornata molto rara nella storia del calcio e nella storia dell'umanità, perché l'autore della vittoria uruguayana, che fu questo Obdulio Varela, il capitano, ho passato la notte intera, di bar in bar, di birra in birra, abbracciandoli i vinti, i vinti, lui che era il vincitore, e tutti piangevano, ah, fai colpa di Obdulio, fai colpa di Obdulio, e lui non aveva il coraggio di dire Obdulio sono io, ma senteva una pena, una compassione immensa per tutta questa povera gente, come lui aveva fatto una cosa così crudele, no? Obdulio, lui l'odiava quando era questo monstro di 200.000 testi, un monstro rogente, terribile, in Maracanà, l'estadio più grande del mondo, la più grande multitudine, si dice multitudine, riunita nell'istoria del calcio, 200.000 persone, e Obdulio l'odiava, aveva un odio terribile, ma dopo, uno e uno, di bar in bar, aveva una compassione immensa, è lui che mi l'ha raccontato. E anche perché in Brasile ci furono tre giorni di lutto, morirono delle persone, 10 persone, scrissero che morirono 10 persone nello stadio di infarto, si suicidò della gente perché aveva scommesso anche la casa su quel Brasile stellare, quindi... È un paese immenso e un po' esagerato, perché questo titolo, Manchete, titolo della grande imprensa brasiliana, dicendo la nostra Hiroshima, era un po' esagerato, no? C'è una tendenza tropicale all'assagerazione, va bene. Anche in Italia, purtroppo. Cosa ne pensa del calcio moderno, visto che comunque questo calcio è segnato da un potere mediatico, economico, che si differenzia rispetto al calcio di una volta, è regolato dal buonismo, dalla fassioneria, dal gossip, che immagini userebbe per descrivere il calcio moderno, insomma? E quanto questo è lo specchio della società odierna? Il calcio professionale, no? C'è un calcio che non è... C'è un calcio che è rimasto un po'... L'allegria di giocare, per giocare, per il piacere di giocare è reale, ancora reale, ma soprattutto fuori dell'espazio professionale, perché nell'espazio professionale il calcio è molto drogato, drogato per l'obbligo di guadagnare e guadagnare e per la proibizione di perdere. E adesso non è più un piacere, è diventato un dovere. Non potrebbe più esistere un peregrino Fernandez? No, ancora è possibile questo miracolo, che io non so se è una prova dell'esistenza di Dio o dell'esistenza del diavolo, ma è ancora possibile, il miracolo è ancora possibile. Grazie a tutti.